Tutto pronto per il Triathlon Sprint Città di Brescia Trofeo Parco delle Cave che torna per la sua seconda edizione domenica 1 settembre. La prima edizione è stata davvero una scommessa ma una scommessa vinta perché il Parco delle Cave e il percorso di Brescia ha conquistato tutti ed è stato davvero un successo e quindi arrivare per il secondo anno a parlare di triathlon in centro a Brescia è davvero una cosa molto bella. Sicuramente il percorso è avvincente e una partecipazione elevata è già stata annunciata e quindi sarà una bellissima edizione anche questa domenica. L'evento organizzato da Frisone, gruppo sportivo Oratorio Buffalora vede il proprio numero di partecipanti più che raddoppiato. Rispetto ai 120 partecipanti dello scorso anno ce ne saranno infatti 280, 40 donne e 240 uomini tra cui un paratleta accompagnato dalla propria guida. Numero in crescita tant'è che abbiamo raggiunto quasi sold out circa 300 persone e rispetto all'anno scorso abbiamo raddoppiato i numeri e quindi la soddisfazione è tanta insomma vuol dire che siamo piaciuti. È una gara che sarà iscritta e darà punteggio rank per il campionato italiano di triathlon e pertanto adesso non ci resta nient'altro che aspettare domenica e vedere veramente tutto all'opera. Quest'anno ci saranno inoltre partecipanti dall'estero, la più lontana è una classe 98 che arriva dal Brasile, inoltre ci saranno mezzi di trasporto quasi tutti green. Il programma rimane quello dell'anno scorso, 750 metri a nuoto, 20 chilometri in bici tra Brescia, Rezzato, Borgosatollo e Castenedoro e 5 chilometri di corsa nell'area del parco. Al di là del nuoto e della corsa che rimangono pressoché invariati, la bicicletta quest'anno sarà più veloce perché abbiamo tolto il dislivello della Maddalena facendo un giro unico toccando i comuni di Brescia, Brescia, Rezzato, Castenedoro e Borgosatollo. Quindi sarà una gara molto più veloce rispetto all'anno scorso, pertanto a mio avviso sarà molto più partecipata anche da atleti più giovani perché appunto come gara di ingresso al mondo del triathlon è molto più abbordabile. Grazie. Grazie.